Sono Giorgia, vengo da Milano e ho 13 anni. Oggi sono venuta qui con mia mamma per fare una esibizione di ginnastica ritmica. Speriamo che vada bene. E che ti piace della ginnastica ritmica? È tanto faticosa, cioè perché non è facile. Però è bella. Mi raccomando. Sì, sì. Ok, mi raccomando. Giorgia ha iniziato a fare ginnastica ritmica quando aveva 4 anni e da lì non l'ha più lasciata. Quando aveva 7 anni ha accusato questo dolore alla gamba e a seguito dei controlli purtroppo hanno riscontrato un tumore dell'osso. Avevamo più percentuale di poter rimanere con Giorgia con l'amputazione dell'arto. Lei non l'ha detto, non diceva nulla, ma credo che abbia preso coscienza in quel momento che forse non poteva più fare ginnastica. Ma poi c'è stata l'illuminazione, grazie al cielo. Lei mi fa, mamma guarda, sei messa al muro, tracchete, si è girata e hai fatto la verticale. Speriamo che vada bene. 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 importante per un sacco di persone. Fai ginnastica ritmica anche a livello agonistico? è solo una performance di questa sera. È una performance. Quindi non lo fai a livello agonistico? In teoria sì, però gareggio comunque da sola. Come mai? Perché non ci sono altre ragazze come me e non posso gareggiare. quindi non esiste la tua categoria? Quindi tu non è che puoi gareggiare a livello agonistico? Esatto. Vabbè vinci sempre però questa almeno è un'altra cosa. Sei stata bravissima, ci hai veramente convinto Per cui mi auguro che succedano delle cose nuove Grazie Con te Ma secondo me sicuramente accadranno Perché io vedo solo un'unica cosa questa sera La tua bravura Quindi sei veramente incredibile Grazie E ti dirò anche un'altra cosa Preparati perché io ti farò gareggiare in una finale Quella di G.T Grazie Is this the place that I've been dreaming of? Oh, sympathy I'm getting old and I need something to rely on And if you have a minute Let me go Talk about it somewhere Only we know Things could be me Oh, piangere che fa piangere anche a me. No, 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 no. Giorgia, ti comunico ufficialmente che sei in finale. Grazie. Brava Giorgia! Brava. Preparati, eh, mi raccomando. Sì, grazie. Brava Giorgia. Brava Giorgia!